ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di easy arp io sono paolo dei monti su un armonicista non che l'autore di easy arp la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyarp.it questo è il canale youtube di easy arp se non sei già iscritto ti invito a farlo oggi vi fornisco uno strumento molto utile ovvero la tabella delle posizioni acquisito che insomma per posizione si intende tonalità il cambio di posizione si significa cambio di tonalità se avete ancora dubbi andate a riguardare questo video e di posizioni in esistono diverse però diciamo che le prime tre posizioni ovvero la prima la seconda e la terza posizione sono comunque quelle più utilizzate quindi ho preparato per voi una tabella riassuntiva con tutte le tonalità di armoniche diatoniche disponibili ovvero 12 e le tonalità delle varie posizioni ecco adesso vi apro questa tabella che quindi avrete sempre disponibile qua sul tubo per dubbi dell'ultimo secondo adesso come è organizzata allora innanzitutto tabella delle posizioni prima seconda e terza quindi ci concentriamo sulle tre principali posizioni e stiamo comunque parlando di armoniche diatoniche standard ovvero accordatura richter ovvero l'accordatura maggiore delle diatoniche standard non sto parlando di accordature particolari su altre scale musicali dunque ci sono quattro colonne nella prima colonna sono indicate le tonalità di tutte le armoniche diatoniche vedete al centro la tonalità c e la prima in la tonalità sol e l'ultima è la tonalità fa diesis dunque sono scritte in ordine crescente di tonalità la tonalità della diatonica in do e visibilmente la tonalità intermedia andando verso la tonalità sol avremo armoniche intonate più gravi andando verso fa fa diesis avremo armoniche intonate più acute le tonalità non alterate quindi sono facilmente riconoscibili in notazione anglosassone ecco sol poi abbiamo la bemolle la bemolle ovvero sol diesis ma comunque troverete indicata la tonalità la bemolle e non sol diesis anche se si tratta della stessa cosa mentre invece la tonalità fa diesis indicata proprio fa diesis e non sol bemolle anche se si tratterebbe della stessa cosa bene quindi abbiamo 12 tonalità di armonica benissimo e poi nelle nella seconda nella terza nella quarta colonna abbiamo tonalità della prima posizione della seconda posizione della terza posizione poi sotto vedete indicato prima posizione maggiore seconda posizione blues terza posizione minore giusto per dare un inquadramento alle tonalità delle diverse posizioni nel senso che in prima posizione sceglieremo la prima posizione sicuramente per suonare in maggiore in ambito per esempio folk o cantautorale se ci interessa suonare blues preferiremo soprattutto all'inizio la seconda posizione se dobbiamo suonare un brano in tonalità minore all'inizio sicuramente andremo a preferire l'utilizzo della terza posizione quindi ogni armonica può essere suonata in tre tonalità diverse se ci concentriamo appunto sulle prime tre diverse posizioni prendiamo il caso proprio dell'armonica in do quindi in prima posizione stiamo suonando sulla tonalità dell'armonica quindi suoniamo in tonalità di do nello specifico appunto do maggiore con la stessa armonica in do in seconda posizione non suoneremo più in do ma suoneremo in sol ok e andremo utilizzare la nostra armonica in do per suonare un blues in sol appunto in seconda posizione se con la stessa armonica invece preferiamo suonare in terza posizione suoneremo in re minore ok con un'armonica in do in terza posizione suoniamo in re minore facciamo un altro caso ho un'armonica in la in prima posizione suonerò in tonalità di la maggiore oppure in seconda posizione per suonare un blues in mi oppure in terza posizione per suonare un brano in si minore qua vedete praticamente indicate le corrispondenze tra le tonalità di tutte le armoniche diatoniche disponibili e le rispettive tonalità delle prime tre posizioni con cui andrete a suonare la stessa armonica potete utilizzare questa tabella in diversi modi o vi ponete come domanda in quale o un'armonica in una certa tonalità in quale tonalità andrò a suonare in seconda piuttosto che in terza posizione ok questa domanda ricorrente oppure la domanda opposta ovvero se devo suonare un blues in re quale armonica devo utilizzare beh se abbiamo capito il gioco personale un blues in re almeno inizialmente andremo a cercare un'armonica che andremo a suonare in seconda posizione allora io quindi cosa faccio colonna blues ok tonalità seconda posizione blues benissimo cerco re benissimo vado a sinistra vado a guardare la tonalità dell'armonica vedo scritto sol quindi personale blues in re in seconda posizione appunto dovevo utilizzare un'armonica in sol se devo suonare un blues in si bemolle vado a cercare nella colonna della tonalità seconda posizione blues vado a cercare si bemolle b b ok si bemolle vado a trovare che la tonalità dell'armonica è in mi bemolle quindi io cerco utilizzo un'armonica in mi bemolle e in seconda posizione suonerò il mio blues in si bemolle per suonare un blues in fa vado nella colonna tonalità seconda posizione blues f fa vado a sinistra e scopro che devo utilizzare un'armonica in si bemolle ok quindi con un'armonica in si bemolle suonerò un blues in fa in seconda posizione oppure per esempio mi domando beh devo suonare un brano in re minore bene allora vado nella colonna terza posizione minore re e trovo subito che devo utilizzare un'armonica in do per suonare un brano in re minore se devo suonare un brano in do minore vado nella colonna terza posizione minore ci scorrono fino alla prima colonna e scopro che per suonare in do minore mi torna comodo un'armonica in si bemolle in terza posizione oppure per suonare un brano in la minore ok me lo ritrovo comodo lì in alto colonna terza posizione minore la tonalità dell'armonica sol quindi comprendo se devo suonare un brano in la minore inizialmente utilizzerò un'armonica in sol in terza posizione quindi questa tabella riassume fondamentalmente le informazioni di base per potersi muovere correttamente tra le tre principali posizioni dell'armonica dietonica ripeto abbiamo tutte le tonalità dell'armonica di armoniche disponibili le trovate nella prima colonna in prima posizione suonerete nella stessa tonalità quindi trovate scritta nella seconda colonna esattamente la stessa nota la stessa tonalità e poi la tonalità la cambierà in seconda posizione e in terza posizione fate tesoro di questa tabella acquisito il fatto che suonare in diverse posizioni significa suonare in diverse tonalità non si tratta di aree dello strumento quella è una conseguenza nel fatto di aver cambiato tonalità qui avete un po' tutte le informazioni utili quindi se all'ultimo momento vi viene il dubbio devo suonare un brano minore in una certa tonalità che armonica devo utilizzare? beh brano minore terza posizione andate a trovare l'armonica giusta se dovete suonare un blues avete capito che preferirete all'inizio suonare in seconda posizione ok se dovete suonare un brano folk maggiore va benissimo la prima posizione ok quindi imparare a riconoscere subito anche per necessità magari alcune tonalità non sono così comuni qui avete tutto quello che vi serve per riconoscere immediatamente la tonalità giusta di armonica per suonare nelle tre diverse posizioni bene avete quasi tutti sempre una connessione sul telefono a portata di mano nel dubbio approfittate ne tornate sul video fate un fermo immagine e andate a cercare quello che vi interessa l'importante è che acquisiate in modo definitivo questo concetto delle posizioni il fatto che in posizioni diverse si suona in tonalità diverse all'inizio è normale si parte dall'armonica in do ci si dota un po' alla volta di altre tonalità di armoniche e quindi si comprende questa questione delle posizioni quindi ci si può confondere all'inizio questa tabella serve proprio a eliminare qualsiasi dubbio poi vi posso assicurare che se cominciate a muovervi tra le diverse posizioni e le diverse tonalità di armonica memorizzerete abbastanza facilmente questa corrispondenza tra tonalità di armonica e posizione va da sé che se io devo suonare un blues in me in seconda posizione andrò subito a prendere l'armonica in là la prima volta magari mi farò le domande del caso le volte successive avrò memorizzato questa corrispondenza e andrò diretto nel mio borsello di armonica a prendere l'armonica giusto comunque approfittate di questa tabella la troverete qua sempre online sul canale youtube di Easyarp spero che vi torni parecchio utile bene questo è lo video di oggi spero che vi sia piaciuto o che vi sia gradito se è così stato magari lasciate il vostro like se non sei già iscritto al canale youtube di Easyarp ti rinnovo l'invito a farlo iscriviti ora e clicca anche sulla campanellina per ricevere aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video e ti ricordo che puoi seguire Easyarp anche su altri social facebook, instagram, il canale telegram di Easyarp e soprattutto se non l'hai già fatto ti invito a visitare Easyarp 2.0 la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyarp.it ovvero una vera e propria scuola di armonica blues online realizzata dal sottoscritto la prima in Italia con tanti corsi divisi da livelli possibilità di sostenere gli esami per certificare il superamento del livello armonica blues standards da studiare insomma una community di studenti tutto quello che ti può tornare utile per seguire un percorso didattico guidato e completo all'apprendimento dell'armonica blues e ricordate che imparare a suonare le armoniche è facile con Easyarp take it easy, take it easy, ciao, saluto tutti